ciao ragazzi benvenuti a questo nuovo tutorial che chiamerei un tutorial sul processo creativo sulla nascita di una fotografia come nascono alcune fotografie ho deciso di girarvi questo tutorial perché ultimamente ho pubblicato alcune foto di paesaggio diciamo paesaggio urbano e ho ricevuto tantissime domande alcune le avete fatte sulla mia pagina facebook qualcuna su instagram moltissime per email con messaggi sulla mia pagina quindi mi sono reso conto che queste foto hanno in qualche maniera testato un po di curiosità la maggior parte le domande riguardavano il procedimento cioè quanta post produzione c'è dietro queste foto come vengono in qualche maniera realizzate vi faccio vedere qualcuna questa è una foto che ho pubblicato qualche giorno fa ed è un tramonto nella splendida splendido paesino di pacentro in abruzzo un'altra foto che ho pubblicato recentemente è dell'ora blu a tolfa con il paese con le luci del paese e con le stelle una foto che ho pubblicato anche qualche tempo fa molto particolare sono queste foto cosiddette day to night cioè dal giorno alla notte in cui viene inclusa in un unico fotogramma la transizione se vogliamo della luce dal giorno alla notte un'ultima foto che pura diciamo ha destato molte molte domande ha generato molte domande è questa della questa fotografia notturna di civitella del lago nel lago di corbara e con le stelle come vi dicevo 90 per cento delle domande ruotavano intorno a quanta post produzione c'è dietro queste foto beh a me riesce diciamo difficile quantificarla perché è moltissimo ma soprattutto credo che ci sia con alcuni forze di voi una disconnessione sulla sul modo in cui nascono questo tipo di fotografia ad ora ho deciso di raccontarvene una lo faccio nei miei videocorsi se avete eseguito il mio videocorso sui paesaggi per esempio sapete benissimo come nascono le mie foto quanto diciamo pianificazione quanto lavoro c'è dietro ma naturalmente non tutti avrete eseguito i miei videocorsi allora vorrei darvi un attimo un insight sul tipo di ragionamento che c'è dietro alla costruzione di una foto e vorrei prendere come esempio una vale l'altra diciamo perché sono tutte uguali dal punto di vista della costruzione logica prendiamo l'ultima cioè questa qui della questa fotografia notturna di civitella del lago allora intanto le foto per quanto mi riguarda nascono con una estrema pianificazione ora in questo caso io questo posto lo conosco molto bene perché è un paese che si trova vi faccio vedere la cartina allora questa è civitella del lago siamo in umbria questo è il lago di corbara questo paese che si chiama montecchio è il paese natale di mia nonna quindi diciamo un posto che io conosco bene dove dove vengo molto spesso questa strada piena di tornanti che va diciamo se proseguite verso todi è la strada che io faccio la mattina quando vado a correre quindi a un certo punto dopo 5 600 metri di dislivello in salita si apre un paesaggio meraviglioso sul lago e sul paese di civitella del lago che domina il lago quindi questo per dirvi che è un posto che io conosco e andandoci a correre lo vedo l'ho visto tante tante volte mi sono fatto un'idea sul tipo di fotografia che volevo fare in altri casi naturalmente non posso attingere a questa conoscenza nel caso di pacentro è un paese io ho visto per la prima volta quando l'ho fotografato certo piazza del popolo la conosco vivo a roma quindi diciamo qui avevo una diciamo informazioni maggiori quando non conosco il posto faccio uno studio su internet studio google studio google maps vado nella visione tridimensionale cerco di capire come che tipo di scatto voglio realizzare cerco su internet ovviamente cerco di prepararmi il più possibile quindi diciamo la modalità di lavoro non è significativamente diversa certo se uno già conosce un posto in qualche modo è avvantaggiato allora qual era il tipo di scatto che io avevo in mente beh io volevo fare uno scatto notturno che in qualche maniera unisse il paese di civitella del lago con il lago e come vedete appunto il paese in qualche modo diciamo domina il lago quindi da questo punto si può prendere il paese sulla destra e il lago sulla sinistra le stelle quindi diciamo una fotografia notturna in cui però ci fosse un buon dettaglio sul primo piano buon dettaglio del paese le luci del paese e il cielo stellato allora qual è il procedimento per arrivare a questo tipo di immagine intanto come vedete io vado in questo caso alla fortuna ripeto di poter fare scouting facilmente quando ci passo mi fermo faccio una foto con il telefono e so qual è la possibile composizione che voglio questo è il paese di civitella del lago sulla destra so che ci sono le montagne so che c'è il lago sulla sinistra so anche approssimativamente la lunghezza focale in questo caso 56 mm su xt2 o su a qualsiasi apsc che mi dà questo tipo di inquadratura naturalmente se non posso andarci prima questo lavoro che devo fare lì per lì però naturalmente diciamo preparato da un lavoro a casa fatto su internet fatto su google questa è la selfie che ho fatto mentre realizzavo questa foto e questo è quello che si vede il tramonto ecco questa altra cosa importante ma questo diciamo ciò dice tranquillamente google come vedete noi siamo esposti al nord ovest quindi sarà una foto contro luce nella fase del tramonto poi naturalmente la luce scenderà nella fase dell'ora blu ma ci dobbiamo aspettare un cielo abbastanza luminoso per buona parte dello shooting quindi anche questo lo sappiamo lo possiamo prevedere allora a questo punto io ho tutte le informazioni per costruire la foto nella mia mente che cosa di cosa ho bisogno allora ho bisogno di iniziare a fotografare intorno all'ora blu dopo il tramonto il tramonto per una foto notturna non mi serve sarà troppo luminoso poi è contro luce quindi diciamo ci sarà un cielo troppo luminoso io inizierò comunque a scattare prima del tramonto per abitudine perché sto lì perché mi godo il tramonto bevo una birra e aspetto che la luce scenda però quelle foto non le utilizzerò nella costruzione della mia immagine le foto che mi serviranno saranno quelle dell'ora blu cioè finirà il tramonto la luce scenderà il cielo si comincerà a diventare buio entreremo nell'ora blu ancora non si saranno accese le luci del paese quella foto mi serve perché è la foto in cui avrò un paesaggio un primo piano abbastanza scuro ma non buio e quindi con sufficiente dettaglio nel primo piano nelle case aspettando ancora un po che cosa succederà la luce scenderà ancora si accenderanno le luci del paese ecco quella è un'altra foto che mi serve perché io dovrò prendere le luci del paese da quello scatto a quel punto dovrò semplicemente aspettare la notte quindi dobbiamo aspettare la fine del crepuscolo astronomico insomma perlomeno quasi la fine del crepuscolo astronomico per poter vedere bene le stelle fare la foto del cielo stellato che a quel punto non c'entra nulla col primo piano inquadro semplicemente il cielo faccio una foto del cielo tre ingredienti ora ve li voglio far vedere fatemi pure chiudere queste applicazioni non ci servono più ve li voglio far vedere in photoshop cioè quali sono i tre pezzi con i quali io andrò a costruire la mia immagine finale attenzione quello che mi preme evidenziare che questi tre pezzi sono nella mia mente prima di andare a fotografare io so che avrò bisogno di questi tre ingredienti primo eccolo qua il primo piano allora questa foto è scattata nell'ora blu si è accesa qualche luce ma poche è molto importante scegliere il momento giusto perché se il primo piano è troppo luminoso non è possibile poi andarla a unire con un cielo notturno se il primo piano è troppo scuro non c'è abbastanza dettaglio quindi ci vuole il momento giusto attenzione il momento giusto io non lo devo capire sul campo io scatto ogni due minuti ogni tre minuti nella fase di post produzione di editing di selezione delle foto quando io le vado a confrontare è lì che devo scegliere il momento giusto io ho questa foto ma tutte quelle prima io tutte quelle dopo d'accordo quindi questo mi libera dalla pressione riedi sul campo di dover scattare la foto giusta che non è necessario io le scatto semplicemente tutte in post produzione nella fase di editing di selezione delle immagini però devo essere bravo a selezionare la foto che non sia troppo chiara non sia troppo scura questa è una foto di un bracketing ora come vi dicevo siamo abbastanza contro luce il contrasto è elevato anche quando il sole è sceso quindi questa è una foto in cui il primo piano ha un buon livello di dettaglio ma il cielo è bruciato non mi interessa io sto andando a fare uno scatto notturno il cielo verrà da un'altra parte da un'altra foto non da questa quindi qui il cielo non lo guardo proprio devo occuparmi del primo piano allora quello che posso dire se io diciamo elimino dalla mente qualunque informazione relativa al cielo che appunto non ci interessa e che abbiamo un primo piano che è abbastanza scuro questo va bene ma ha un ottimo dettaglio quindi diciamo presumo di poterlo andare ad unire abbastanza agevolmente con gli altri elementi bene quali sono gli altri elementi secondo pezzo del puzzle le luci eccole qua allora come vi dicevo quando entriamo nell'ora anzi passiamo l'ora blu entriamo quasi nella notte si accendono le luci del paese bene io queste dovrò andare a prenderle e unirle al mio scatto del primo piano in cui le luci non ci sono d'accordo ultimo pezzo del puzzle photoshop si sta rallentando molto per via del software di registrazione dello schermo spero che diciamo che non sia un problema ultimo pezzo del puzzle le stelle eccolo qua c'è un pezzo di cielo stellato solo il cielo stellato questi sono gli originali questi sono i raw originali va bene ora devo andare a combinarli qui devo prendere il primo piano devo accendere le luci devo metterci le stelle il tutto devo fare in modo credibile cioè l'immagine finale deve risultare diciamo ragionevolmente naturale non si deve percepire qualcosa di strano ok allora ora vi faccio vedere come ho fatto a mettere insieme tutto questo naturalmente in photoshop ma la cosa più importante secondo me è che vorrei comunicarvi in questo tutorial è quello che vi ho detto fin qui poi dopo naturalmente c'è la tecnica di unione degli scatti insomma c'è la c'è la tecnica di scatto c'è la tecnica di post produzione queste le potete apprendere tranquillamente nel mio video corso di photoshop per quanto riguarda l'utilizzo di photoshop delle maschere dei livelli diffusione delle immagini eccetera eccetera nel mio video corso di fotografia notturna per quanto riguarda la lavorazione del cielo stellato e la fusione del cielo notturno con il primo piano quindi se siete interessati a questo tipo di immagini quelli sono i video corsi di riferimento che vi consiglio di seguire di acquistare video corso di post produzione con photoshop video corso sulla fotografia notturna al di là di questo però naturalmente diciamo è importante quello che mi preme molto è che voi recepiate la modalità di lavoro cioè queste foto non nascono per caso per cui capite quando a me mi arriva una domanda del tipo ma quanta pianificazione c'è ma quanta post produzione c'è ho fatica a rispondere perché devo rispondere il 100 per cento cioè è tutta pianificazione se vogliamo è tutta preparazione è tutta post produzione l'immagine nasce nella mente lo vedete che non c'è lì non c'è cioè lì ci sono i vari pezzi ma quella foto quell'immagine che voi vedete nella mia foto finale non c'è nella realtà non c'è nessun momento in cui si vede il paese si vedono le luci si vedono le stelle è impossibile quando si vede il paese non ci sono le luci quando ci sono le luci non si non si vede niente perché è buio ormai totale capite quell'immagine è un prodotto della mente nella mente che nasce l'immagine nella mente che nasce la consapevolezza degli ingredienti che servono per formarla poi si va sul campo si raccolgono gli ingredienti come se fossimo dei cuochi che vanno a prendere gli asparagi e a prendere tutti gli elementi che gli servono poi questi ingredienti si mescolano nello studio di post produzione per produrre l'immagine finale ok vediamo come già che ci siamo non è questo diciamo non voglio fare un tutorial di post produzione ce ne sono altri se andate sul mio canale youtube ne trovate tanti in cui faccio lavorazione di fotosimili ripeto nei miei video corsi ve lo spiego in tutto il dettaglio quindi non faccio tutta la post produzione dell'immagine che richiederebbe almeno un'ora vado veloce vi faccio vedere i vari step questo è il primo piano il primo piano naturalmente un file raw io lo vado a lavorare in lightroom o in camera raw eccolo qua andandolo diciamo a modificare leggermente cioè che cosa vado a fare essenzialmente vado a scurire un po il primo piano perché ho consapevolezza che questo andrà unito con un cielo stellato quindi capite troppa troppa luce non la posso avere sul primo piano nello stesso tempo vado a recuperare un pochino le altre luci del cielo bruciato che non mi serve ma mi serve per rendere poi la transizione più morbida possibile ripeto tutti questi argomenti vengono trattati in grande dettaglio nel video corso di post produzione con photoshop quindi se se vi sentite un po persi è normale queste sono tecniche avanzate insomma c'è poi il video corso in cui questo viene spiegato in grande dettaglio ora qui vi faccio vedere i vari passi spero che riusciate a seguirli diciamo se non in tutti i dettagli almeno da un punto di vista logico quindi prima faccio una elaborazione del rho del primo piano poi vado a prendere le luci allora le luci originali sono fatemi disattivare un attimo la maschera sono queste queste qua ok anche su questo file loro vado a fare un elaborazione che è questa cioè sostanzialmente vado a ridurre la temperatura del colore vado a togliere tutto quel giallo vado ad amplificare un pochino le luci eccetera bene adesso questo lo unisco con il mio primo piano fatemi ancora tenere la maschera disattivata come lo unisco lo unisco con una modalità di fusione che si chiama schiarisci oppure lighten in cui sostanzialmente io vado semplicemente ad accendere diciamo così a far comparire le luci più le cose più luminose quindi passo da questa che è il primo piano a questa che è il primo piano con le luci ok dopodiché siccome alcune luci mi danno fastidio queste qua giù non mi interessano queste sul lago mi danno fastidio vado a creare una maschera e con questa maschera vado a spegnere qualcuna di queste luci bene il mio primo piano è pronto ok abbiamo il primo piano abbiamo acceso le luci sul primo piano siamo passati da questo a questo ok ho già mescolato due ingredienti e ho un pezzo della foto pezzo successivo sono le stelle allora anche qua il mio cielo originale è fatto così naturalmente io vado a lavorare questo però e passo da quello a questo lo faccio andando a cambiare la temperatura del colore vedete voglio cercare di uniformare i dominanti cromari cioè il tutto deve essere in qualche maniera uniforme attenzione naturalmente questo cielo io lo vado ad unire con una maschera no perché se non ci fosse la maschera avrei questo ok quindi io vado a crearmi una maschera contorno alle montagne eccetera eccetera vado ad unire il cielo beh a questo punto gli ingredienti ci sono insomma sta tutto insieme si tratta di cucinarlo di amalgamarlo da qua in avanti diciamo è una post produzione un po normale tra virgolette nella fotografia di paesaggio cioè con il timbro clone vado a eliminare un pochino di elementi di disturbo vado a rimuovere il rumore dalla parte del cielo che non contiene le stelle questo naturalmente sono cose che vanno fatte con una certa competenza cioè con delle maschere che come vedete per esempio escludono le stelle dalla rimozione del disturbo ripeto sono maschere di luminosità si impara a farle all'interno di photoshop poi vado a bilanciare il colore per esempio del lago vedete ho una maschera sul lago che va diciamo a modificare leggermente il colore del lago per renderlo più uniforme con il riflesso che arriva dal cielo vado a regolare un po l'esposizione delle stelle le vado ad accenderle un pochino utilizzo dei filtri per esempio il colore fx pro della nick per regolare un pochino il contrasto per dare un po un alone di morbidezza all'immagine qui ho utilizzato anche un altro plugin che si chiama luminaria in cui ho fatto semplicemente una ho applicato semplicemente una sorta di effetto orton si può fare tranquillamente in photoshop lo descrivo nel mio video corso con photoshop per rapidità l'ho fatto utilizzando un plugin e poi faccio una semplicemente una curva di contrasto sui mezzi toni bene in tutto questo siamo partiti dall'immagine originale del primo piano che era questa siamo arrivati ad un'immagine finale che è guardate voglio farla vedere un po meglio all'inizio alla fine fatemi riaccendere tutto ok siamo partiti da questa questa è il primo piano originale un solo scatto siamo arrivati a questa prima dopo ecco capite da un prima e dopo in cui abbiamo preso tre ingredienti cioè tre cose separate completamente separate da una parte il primo piano con il suo lago le montagne il paese dall'altra parte le luci del paese secondo ingrediente terzo ingrediente le stelle le mettiamo insieme le fondiamo le cuciniamo in una immagine finale che come vedete non è altro che se vogliamo un prodotto della nostra immaginazione naturalmente questo diciamo significa discostarsi buona parte dalla realtà che abbiamo davanti perché in tutta la sessione fotografica io non ho mai visto quello che voi vedete nell'immagine finale perché questo diciamo qualche maniera non è possibile vederlo in un unico istante però se noi riuniamo tutta l'esperienza che ho avuto dal tramonto all'accendersi delle luci all'ora blu al comparire delle stelle lo vogliamo fondere in un'unica immagine che in qualche maniera riassuma non un istante ma un'esperienza beh allora mi sento di dire che questa immagine finale è quella che più fedelmente possibile rappresenta quella che è stata la mia esperienza che però è un'esperienza che si sviluppa nel tempo spero che questo diciamo sia utile che questo tutorial sia stato utile non tanto per il per insegnarvi qualche trucco o qualche tecnica per quello ci sono i video corsi ci sono altri tutorial ma piuttosto per comunicarvi una maniera di ragionare forse un pochino diversa cioè far nascere l'immagine nella propria mente un po come farebbe un pittore in maniera non molto diversa e poi andarla a dipingere solo che anziché inventando sarà da zero andando a prendere dei pezzi dalla realtà e fondendoli insieme in una maniera che sia il più possibile diciamo armoniosa che sia il più possibile naturale credibile ma anche il più possibile rispondente a quella che è la nostra emozione di fronte se vogliamo allo svolgersi degli eventi come quelli di un tramonto di un diciamo di un'ora blu dell'accendersi delle luci del paese che domina che domina il lago del comparire delle stelle bene questo è quanto ragazzi spero che questo tutorial sia stato il vostro gradimento ci vediamo prossimamente sul mio canale oppure sulla mia pagina facebook un abbraccio a tutti a presto